Sono 2.133 nuovi positivi in provincia di Sondrio preso in carica da ATS della Montagna nei tre giorni dal 7 al 9 gennaio, un numero che porta a 7.316 il totale delle persone positive al Covid-19 attualmente presenti in Valtellina e Val Chiavenna. A fianco dell'ormai quotidiano aggiornamento sui contagi c'è anche quello che riguarda le coperture vaccinali. Proprio alla campagna vaccinale guardano le nuove disposizioni anti-Covid che introducono da oggi il Green Pass rinforzato per l'accesso tra le altre cose a servizi quali il trasporto pubblico e che da sabato hanno introdotto l'obbligo vaccinale per chi ha almeno 50 anni. Per la provincia di Sondrio la copertura vaccinale arriva al 94% dai 70 anni in su, scende al 91 tra i 50 e i 69 anni, è pari all'88% nella fascia 40-49, 86% per i trentenni, 90% per i ragazzi tra i 18 e i 29 anni e 84% tra i 12 e i 17 anni. Il dato per i più piccoli, fascia 5-11 anni, è del 28% di vaccinati o prenotati sugli assistiti. I centri vaccinali di Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Villa di Tirano e Sondalo sono aperti tutti i giorni con poche eccezioni. Come annunciato, il centro vaccinale di Morbegno è stato trasferito dal presidio ospedaliero al polo fieristico che garantisce spazi molto più ampi e un comodo accesso. Da 5 i centri vaccinali sono diventati 7. A Chiavenna, nella palestra comunale di Viale Maloggia, a Morbegno al POT per i bambini e al polo fieristico per tutti gli altri utenti, a Sondrio nella palestra dell'Istituto Quadrio dei Simoni e con il Policampus riservato ai bambini, a Villa di Tirano, al centro polifunzionale, a Sondalo nel sesto padiglione dell'ospedale Morelli. Negli ultimi giorni, a seguito dei nuovi provvedimenti del governo, è notevolmente cresciuta la richiesta per la somministrazione della prima dose di vaccino e non soltanto da parte di chi è soggetto all'obbligo vaccinale, ma anche da chi ha meno di 50 anni.